Quante ore durano tutti i video che ho pubblicato finora? Ossia, quanto materiale io lascerò da studiare se le cose che io dico un giorno saranno ritenute molto importanti? Ho fatto un calcolo relativo soltanto agli ultimi sei gruppi di 30 video che fanno parte dell'elenco che YouTube fornisce e sono sei file di 30 video uno dei quali è uno in meno perché è un video privato quello che ho fatto sulla puntata del Maurizio Costanto Show che fui invitato dalla proprietà del Maurizio Costanto Show a togliere perché non era nelle mie proprietà rivendicando il Maurizio Costanto Show la proprietà culturale anche del mio intervento Pazienza Ebbene, dal 30 settembre 2014 al 19 gennaio 2015 ho pubblicato 179 video in 111 giorni per una media di 1,61 video al giorno divisi in 5 gruppi da 30 video e uno da 29 a partire dal primo gruppo, il più antico diciamo così di 30 video per 1.538 minuti di visione sono seguiti in data successiva gli altri 5 per altri 1.691, uno poi 2.053 il successivo poi 1.472 il successivo poi altri 1.054 e infine l'ultimo, il più recente per 1.211 minuti relativi agli ultimi 30 video i minuti totali di questi 6 sostanziali blocchi di 30 video sono stati di 9.019 minuti dividendo 9.019 per i 179 video risulta una media di 50 minuti e 38 per ogni video poiché io ho pubblicato tutt'oggi 2868 video questo escluso se la durata media fosse quella degli ultimi 179 video essi impegnerebbero 143.000 minuti circa di ascolto per 2.390 ore pari a circa 100 giorni interi di 24 ore o 200 di luce di 12 ore ciascuno oppure 300 giorni lavorativi di 8 ore insomma poco meno di un anno di 8 ore lavorative supponendo una media inferiore rispetto ai 50 minuti attuali in 111 giorni sì perché i primi fatti erano più corti potremmo ridurre questo anno di 8 ore di lavoro sempre a un anno con 6 ore da impiegare ogni giorno pertanto se io non pubblicassi altri video lascerei già un bel impegno a chi nel futuro non volesse solo impegnarsi nell'ascolto ma anche nello studio dei miei video se uno studioso impiegasse 5 altre ore a studiare ogni ora di ascolto occorrerebbero interi 6 anni di studio ma anche se io non pubblicassi